Prima il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, poi quello dell'economia Roberto Gualtieri. Dal governo arriva un definitivo stop al nuovo piano industriale presentato nei giorni scorsi da Arcelor Mittal, colosso industriale operante nel settore dell'acciaio, proprietario degli stabilimenti dell'Exilva. Oltre a una riduzione della produzione del 25% e il rinvio degli investimenti ambientali, il progetto prevede 3.200 esuberi. Tutto questo non è giustificabile con l'emergenza Covid, anzi, sottolinea il ministro Roberto Gualtieri. Nei prossimi mesi si attende una forte spinta agli investimenti che riguarderà tutti i settori produttivi, compreso quello dell'acciaio. Durissima la posizione dei sindacati che con Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto CIS, invita il governo ad assumersi le proprie responsabilità imponendo all'azienda di rispettare gli impegni presi sugli investimenti e sulla riqualificazione ambientale. Ma quella dell'Exilva è solo una delle tante crisi aperte nel nostro paese. Oggi le guide turistiche sono scese in piazza in diverse città italiane per chiedere un sostegno concreto fino a quando non riprenderà la stagione turistica nel 2021. Noi vogliamo aiuti a fondo perduto fino almeno a febbraio-marzo. In più vorriamo un posticipo delle scadenze fiscali alla fine dell'anno prossimo. La crisi del tessuto socio-economico in questo momento viene confermata dai dati pubblicati dall'Istituto di Statistica, l'Istat, che raccontano come la propensione al consumo degli italiani nei primi tre mesi del 2020 sia crollata del 12%, anche ma non solo per causa del lockdown. Spesso mancano i soldi e le spese rimangono tante. In medio la famiglia italiana spende.